L'anello, si muove rapidamente! Mi hanno individuata! Mi stanno sparando! Fuoco! Caricamento scudi! Dai, dai! Ricarico gli scudi! Sono a terra! Ehi! Ascoltate! Sono sottotiro! Drone di pericolone! Ricarico gli scudi! Danno individuata! Mi stanno sparando! Mi sto curando! La l'anello, il vicino! Manca solo un minuto! Allora! Pare che io sia!